Mi fa piacere vedervi, vedo anche facce nuove, facce interessate ai 150 anni della Stazione Internazionale di Chiasso e a quella serie di eventi che ci sono stati in concomitanza con questo fatto. Questa sera siamo per il secondo incontro, quello che si riferisce all'architettura della Stazione Internazionale di Chiasso. Sentiremo Nicoletto Sanna Cavadini su questo aspetto. Poi postatuario che ha tutta una sua storia interessante. Per anni siamo passati vicino a questa statua senza sapere in retroscena che sono di un certo interesse. Poi anche l'emigrante, quello lo si vedeva forse di più perché lo sguardo entrando nell'atrio parte subito verso l'alto e vede. Ma anche questo sarà oggetto dell'intervento di Simona Martinoli Stabler. Architettura e arte della Stazione Internazionale di Chiasso. Vi presento la prima relatrice, notissima a chi frequenta le conferenze del Circolo Cultura Insieme, visto che però siamo in composizione mista. A proposito, se ci fosse tra di voi qualcuno interessato a diventare socio del Circolo Cultura Insieme, perché no? Ecco, visto che gli sponsor tendono, globalizzazione o de-globalizzazione, non lo so, ma tendono a non più essere così numerosi come ai tempi. Io devo ringraziare i soci che con il loro contributo contribuiscono a coprire il 75% dei costi di gestione del Circolo Cultura Insieme. Quindi uno sforzo da parte vostra e vi ringrazio, presenti già soci e magari futuri soci e se consigliate qualche o se c'è qualche possibile sponsor tra voi o amico vostro, segnalatelo che non fa mai male. Questo perché a Chiasso c'è una sinergia notevolissima tra le varie società che ruotano attorno ai pilastri della cultura chiassese. Tra i pilastri evidentemente, non andiamo lontano, abbiamo la direttrice del Max Museo, dello Spazio Officina, poi c'è il Cinemateatro, poi c'è la biblioteca anche e altre associazioni private che coprono ogni settore possibile della cultura. Il Circolo Cultura Insieme è quell'insieme che cerca di unire i vari saperi per evitare che ci sia il Fach Idiot che sappia tutto di una materia ben determinata e alla fine sa tutto di niente in sostanza. Quello che si vuole è arrivare ad avere più saperi a disposizione e qui c'è un sapere sociologico anche con la stazione di Chiasso. Chi era presente all'ultima conferenza se ne sarà reso sicuramente conto. Nicoletto Sanna Cavadini, lascio il suo curriculum lungo e impegnativo che porterebbe via altro tempo. Voglio solo ricordare di Nicoletta il dottorato di ricerca in storia dell'architettura e storia dell'arte al Politecnico federale di Zurigo e il post dottorato all'Università di California a Los Angeles. È stata dal 2004 al 2012 professore a contratto presso l'Università Cattolica di Milano e presso l'Università e nell'Università degli Studi dell'Insubria, sede di Como. Ha una serie sterminata di pubblicazioni, cataloghi e di mostre di particolare pregio. Sull'argomento ha scritto Chiasso fra 800 e 900 la costruzione della forma urbana e poi un'altra pubblicazione Chiasso tra treni e ferrovia, immagini storiche e cartoline. Sull'argomento c'è poi anche una pubblicazione di Mario Verga che vedo qui presente, che è interessante sulla Chiasso, sulla Chiasso vecchia ecco, ma dove la stazione compare, compare ed è bene vederla anche in certe foto, foto d'archivio interessanti. Nicoletto Sanna Cavadini è stata membro della Commissione federale del design e nel corso degli ultimi anni ha svolto ricerche riguardanti l'architettura, il design, l'arte e la grafica, pubblicando molti saggi. Basta guardare il tavolone che c'è all'entrata del Max Museo, dove almeno la metà delle pubblicazioni hanno una curatela o co curatela tua, Nicoletta, per farsi un'idea di quanto sei riuscita a produrre. Parliamo ora della stazione ferroviaria di Chiasso, dal fabbricato in legno alla realizzazione della stazione ferroviaria internazionale. E do la parola a Nicoletta Ossanna Cavadini per la sua conferenza. Un cordiale saluto e sempre un vivo piacere, caro Presidente del Circolo Cultura Insieme, caro Flavio Cometta, gentile segretaria e greggio sindaco, autorità, tutti voi soci, curiosi e grandi appassionati della ferrovia. Ebbene sì, Chiasso indistrubbilmente è legata alla storia della ferrovia e tutte le sue radici, sia economiche che anche culturali, trovano un grande fermento e un grande momento di conoscenza storica attraverso la ferrovia. E quindi celebrare, commemorare i 150 anni della realizzazione della stazione ferroviaria internazionale di Chiasso diventa un po' come interpretare e anche conoscere e guardare il DNA di quella che è la caratterizzazione non solo urbanistica e urbana di Chiasso, ma anche di tutta la popolazione nel suo grande intorno che ha vissuto in relazione alla stazione. Una relazione molto allargata di traffici e di commerci di cui in questa sede, per motivi anche di limitatezza di tempo, ci concentreremo nella parte architettonica e artistica proprio a sancire quella che è stata anche la storia e un grande dibattito. E mi piace un pochino ricordare anche con una piccola polemica che era stata fatta nel 1974 e che qui si vede, a differenza di quello che invece ci è stato fatto quest'anno, quella che era stata una polemica di aver lasciato passare il centenario della realizzazione della stazione internazionale di Chiasso senza in definitiva commemorarlo. E proprio sul Corriere del Ticino del 6 dicembre del 1974 si conclude questo articolo dicendo che nessuna cerimonia, come sia stato grave che nessuna cerimonia sia stata programmata dai dirigenti centrali delle ferrovie federali per celebrare questa pur importante ricorrenza del centenario. E' indubbio che ci troviamo tutti, ferrovie federali comprese, in un periodo di vacche magre, quindi vedete come la storia in questo caso anche si ripete e non sarebbe quindi stato invece il caso di organizzare grandi festeggiamenti ma di dare adito a discorsi e soprattutto a rappresentare quello che è stata la storia, il passato e appunto le radici della cultura di Chiasso. E quindi in questo caso mi piaceva commemorare e ricordare che quest'anno invece si è partiti da un momento sentito attraverso anche testimonianze storiche vissute dal punto di vista quasi potremmo dire morale di molte testimoni dell'epoca per poi passare invece a capire quella che è una radice cosiddetta antropica così definita dagli studiosi specifici anche di antropologia culturale e studiosi di demografia in quanto Chiasso decuplica il suo numero di abitanti nell'arco temporale ridotto dovuti al fatto dell'attrazione che la stazione ferroviaria internazionale ha saputo creare ed è stato grande catalizzatore quindi con le sue interessanti relazioni delle case di spedizioni dalla parte svizzera tedesca, svizzero francese, ma poi anche del grande nucleo del personale ferroviario italiano presente a Chiasso per proprio quella che è stata la convenzione fra la Svizzera e l'Italia, quella che celebriamo, che sancita nel 23 dicembre del 1873 prima e poi con l'11 gennaio 1874 ratificata e diventata operativa nel febbraio del 1874. Quindi questa convenzione importante che se da un lato si collega alla storia più complessa della Gotarban e quindi del collegamento ferroviario di questa grande epocale potremmo dire trasformazione del territorio, una trasformazione anche culturale, collegamenti di gente e la possibilità anche attraverso le merci che avviene appunto negli anni già precedenti ma che viene sancita assolutamente in questo arco temporale dagli anni 1874 fino alla grande e importante inaugurazione dell'edificio della Stazione Internazionale di Chiasso che è sostanzialmente, solo dopo adesso i rifacimenti e riadattamenti attuali, il grande momento che sancisce poi anche le opere che sono state realizzate. Questa convenzione importante conservata negli archivi del Comune di Chiasso a cui ho chiesto anche accesso per poter visionare alcuni di questi punti, già sancisce un elemento importante che da un lato tiene conto ancora di una relazione, una struttura potremmo dire di mancata programmazione, di valutazione della linea con Chiasso verso Milano piuttosto che quella che fino a quel momento era comunque ancora vagliata e che guardava alla linea che passava per Luino e quindi il collegamento con Genova. Se da un lato quindi non si prende ancora una decisione e non si sancisce ancora una decisione importante su questo aspetto, dall'altro si trovano tutti quegli elementi che presagiscono il grande sviluppo e la possibilità che non siano soggetti e imposte tutto lo staff e persone e cose riferite alla ferrovia sia dalla parte italiana che dalla parte svizzera. Quindi questi elementi saranno via più un impulso notevole di questo aspetto. E mi piace ricordare che alla prima firma al primo varo perché ci troviamo di fronte al Consiglio federale e quindi al Presidente della Confederazione Elvetica che lo sottofirma e poi Vittorio dalla parte italiana il re d'Italia Vittorio Emanuele II perché siamo ancora con il Regno d'Italia. E la Svizzera, Chiasso, in particolar modo dopo la prima conferenza internazionale importante che sancisce questo accordo, darà seguito a una soddisfazione che porterà a ben suonare le campane della Chiesa di Chiasso a ritmo diverso ma per l'intera giornata. Quindi fa capire già la forza e l'entusiasmo dei chiassesi verso questo momento e sarà il tutto capeggiato da un consigliere nazionale, Francesco Rusca, che sarà un po' il mentore di questo aspetto e che cercherà sempre di portare avanti il principio della realizzazione della stazione internazionale di Chiasso. Le immagini che farò vedere in rapida successione sono frutto di quello che è stato uno studio fatto più di 30 anni fa quando appunto, come ha accennato prima il Presidente, per la realizzazione del capitolo sul testo della storia di Chiasso, storia urbana, avevo avuto bisogno di andare a Lucerna, agli archivi specifici delle ferrovie federali svizzere, agli archivi cantonali a Belenzona e agli archivi comunali. Quindi questo è un po' anche uno estratto di alcune mappe che ben fanno capire e comprendere l'estensione di Chiasso e la sua organizzazione urbana prima dell'arrivo della stazione ferroviaria. La scelta dell'asse ferroviario e di tutto il territorio dove collocare i vari fasci ferroviari fu giocoforza stabilito da una situazione orografica del terreno e se da un lato la prima stazione pagò una sottostima di 1 a 5 rispetto al traffico ferroviario valutato nel passaggio della via di Luino ritenuta preferenziale rispetto alla via di Chiasso Milano. Quindi la stazione ferroviaria di Chiasso inizialmente non fu in muratura a differenza di tutte le altre stazioni della Gotterbahn e iniziò anche l'ubicazione, non fu frutto di piani prestabiliti e di proprio disegno specifico come si vede nell'archivio delle ferrovie federali svizzere a Lucerna, ma fu frutto un po' della necessità di creare velocemente per rispondere al mercato delle merci e del transito delle persone che sorprendentemente invece contraddisse completamente quello che era stata la previsione su Luino. E quindi la prima disegno che noi abbiamo sul finire dell'800, quindi siamo a 1875 all'incirca, abbiamo 5 binari ferroviari, un edificio viaggiatori che vediamo poi dalle immagini dell'epoca essere una struttura in legno perché non c'era stato il tempo per realizzare la costruzione in muratura, ma soprattutto non c'era stata la pianificazione come era avvenuta nelle altre stazioni. Un annesso, ovviamente la stazione aveva un vano di edificio viaggiatori, un magazzino merci accanto e una rampa di rimessa. Il torrente faloppia dava un po' di problemi perché proprio non aveva una conformazione così arginata, per cui uno dei primi grandi momenti di attività di questa stazione ferroviaria di Chiasso che ripresa nelle fotografie si intravede proprio la struttura linea, nella fattispecie la parte che era spostata leggermente più a nord rispetto poi all'attuale e si incomincia a intravedere tutta la parte anche relativa ai grandi fasci ferroviari, che sono inizialmente solo 5, ma che la necessità fece tale che bisogna consolidare tutta la parte argillosa e acquitrinosa di questo ambito con una serie di di un grande opera architettonica e ingegneristica nel riportare la massicciata dei binari in un terra pieno che fu lungo 700 metri, largo 100 e alto 6, per cercare di dare livellatura, in quanto i i vagoni, i treni ferroviari a vapore in quel mentre avevano sempre grandi difficoltà a superare dei dislivelli. Quindi si volle spostare il pietrisco, come si legge nelle lettere, dalla Leventina per consolidare tutta la massicciata. Questo fattore creò anche una cesura su Chiasso per cui furono necessari tutta una sorta di cavalcavia, sottolivelli, sopralivelli, per collegare poi le due parti così sancite da questa grande fascia ferroviaria dalla stazione di Chiasso. Ed è proprio la tabula della Gotharban che ci fa capire come se da un lato il progetto ingegneresco era inappuntabile e quindi tutte le stazioni ferroviarie lungo la Cotta Arban erano di diversa tipologia. La tipologia 1, 2, 3 avevano sempre, a seconda della grandezza del luogo, veniva scelta la tipologia della ferrovia che era chiaramente desumibile e visibile anche dall'esterno lungo tutte le città che toccava la ferrovia stessa. Mentre a Chiasso la stazione avrà una conformazione completamente diversa perché non sarà pianificata, è l'unica stazione che non è stata inserita in questa tabula. E questo fattore da un lato farà sì che sarà estremamente oblunga e collocata in un posto, in un luogo che non si confà direttamente con quella che è la vicinanza della dogana o meglio del confine. Questa storia però molto particolare permise a Chiasso di adattarsi continuamente e di ingrandirsi a seconda proprio della grande capacità o della grande necessità dettata dai traffici e commerci. Le questioni furono molto articolate per cui abbiamo tre fasi di realizzazione della stazione, quindi una prima stazione sostanzialmente in legno con una tipologia che un po' ricorda il Far West, che ricorda una visione filmica, la possiamo desumere dalle cartoline o dalle prime fotografie che abbiamo come testimonianza, non vi sono piante se non delle piante puramente perimetrali. e da un lato sul far invece degli anni 80 dell'ottocento, il 1883-84 ci fu la necessità di renderla in muratura e fu una facciata e una pianta molto semplice proprio dettata dalla necessità di soggiacere alle esigenze economiche e funzionali di quel momento. ma vi fu un altro grosso problema, cioè su questa planimetria che noi possiamo vedere, su questa mappa topografica, vediamo la stazione di Chiasso, vediamo la parte dei caseggiati dell'ambito di servizio della stazione ferroviaria, ma per ingrandire tutta quest'area che fu poi espropriata man mano, si trovò niente meno con i due grandi problemi, quello di arginare Faloppia, il torrente Faloppia e farlo passare sottostante e spostare niente meno che il cimitero di Chiasso. Il problema dell'esumazione fu grandioso perché toccare il tema dei cari, dei morti e della memoria a una città tocca veramente nel cuore, nel vivo e questo aspetto richiese alcuni anni anche se fu fatto in maniera molto organizzata e molto celere. Quindi la testimonianza della stazione ferroviaria di Chiasso, noi la vediamo molto bene qui nella pianta in cui si capisce che è un'aggregazione di una serie di elementi planimetrici e la funzione specifica fu essenzialmente data dalla necessità. La prima costruzione e muratura di cui abbiamo testimonianza è data 1881-85 ed è composta da tre corpi principali, li vedete chiaramente qui, fatti un po' leggermente a C e ospitava al centro, sappiamo per lettere e per testimonianze scritte, la biglietteria, gli uffici. Negli altri due corpi, uno a destra e l'altro a sinistra, vi era la polizia svizzera, il telegrafo, la posta svizzera, la posta italiana, mentre nell'Alea Prio Sud vi era anche la questura italiana, la revisione del controllo dei bagagli, il buffet e la sala d'aspetto. Normalmente nella assialità della stazione si crea il grande viale della stazione con gli edifici rappresentativi nelle diverse città, perché diventa il cordone umbilicale del progresso urbano rispetto a quella che è anche un po' una magnificenza civile. In chiasso questo l'abbiamo tutto spostato proprio per la necessità della funzionalità orizzontale rispetto all'urbanità che era già consolidata e si crea unicamente questo grande piazzale antistante. Quindi della vecchia stazione del fine dell'Ottocento, la prima stazione in muratura, noi abbiamo un edificio estremamente semplice, umile, molto però allungato e molto efficiente, orgoglio dei chi assesi e nello stesso tempo anche che necessitò poi dei collegamenti di scorporare alcune funzionalità come le poste svizzere che presero in affitto un edificio privato antistante e poi si spostarono in quella che oggi piazza Indipendenza, collegate da un tunnel con la stazione stessa. Si fece, per rendere più aulico, più importante, una sorta di piazzale davanti all'ingresso con alberi, con una piccola aiuola e quindi cercare di dare questa magnificenza civile a uno dei più grandi nella tipologia urbana dell'Ottocento edifici sempre di rappresentatività per una città. La modernità e il progresso lo si vede benissimo, guarda nella storia della comunicazione visiva con le cartoline, i saluti dagli appassionati e cultori delle cartoline sanno che è uno degli elementi che sanciscono assolutamente anche gli anni rispetto alla storia e alla cronologia delle cartoline postali, la stazione diventa il luogo rappresentativo di progresso di una città. Ma questo luogo di progresso, vediamo in chiasso, assume nella sua conformazione un po' a imbuto i vari binari delle locomotive che si ampiano con questi fasci ferroviari e con tutte le necessità specifiche di una stazione che sempre più diventa importante non solo perché è internazionale, lo era anche Luino nell'accordo della convenzione, ma il rapporto di 1 a 5 che doveva privilegere Luino fu completamente svasato e sarà chiasso la trattore di 5 a 1 sul traffico e le merci. Questo aspetto particolare fu anche sentito, l'abbiamo visto la scorsa volta, in un senso di forte rappresentatività, del senso di appartenenza di chi vi lavorava, di indossare la divisa delle ferrovie federali, di avere un ruolo con uno stipendio scandito e soprattutto con una grande responsabilità nella sicurezza, che faceva anche la forza della città stessa e nel garantire alla propria famiglia uno stipendio che poteva far studiare i figli come abbiamo visto e quindi anche la parte del riconoscere un ruolo nel campo della ferrovia, di lavorare in ferrovia è stato significativo e importante. Ci vorrà però diverso tempo, cioè solo quando la stazione verrà poi sancita con il grande sviluppo dell'acquedotto negli anni 30, di avere i capostazioni di origine ticinese e di avere l'establishment potremmo dire completamente autoctono e non proveniente dalla Svezza tedesca o dalla Svezza francese. La situazione del sviluppo della ferrovia lo vediamo anche da piante collaterali dovute allo sviluppo dell'acquedotto e della situazione legata proprio all'adduzione dell'acqua in una situazione particolare in cui anche l'adduzione dell'acqua era importante nella stazione stessa e vediamo queste cartoline che fanno vedere il fumeggiare della locomotiva e del vapore che riempie nell'insieme. L'immagine anche un po' così che ricorda anche molti film dell'epoca perché la caratterizzazione della stazione doveva essere proprio questa. La stazione diventa catalizzatrice anche di un insieme di relazioni perché porta tanta gente, richiede accoglienza e non è un caso che proprio vicino di fronte sostanzialmente un po' spostato in là della stazione nasce il primo hotel importante di Chiasso. Sarà l'architetto Carl Brambilla, l'hotel Felix che è data proprio 1907 con chiare forme Liberty e che si giustappone, lo vedete, nell'oblunga stazione con le sue cupole che fa come punto di riferimento. Quindi se da un lato sarà anche l'elemento degli edifici rappresentativi ritroviamo lo spostamento del cimitero che abbiamo detto prima e che darà poi adito alla realizzazione del cimitero nuovo nel 1906 più spostato. Ecco lo vedete che si trova con il suo emiciclo che si trova proprio a ristringere il campo ferroviario e che quindi ne fu necessario lo spostamento. D'altro canto la realizzazione della stazione ferroviaria internazionale sempre all'inizio del 1900 fece sì che anche altri servizi importanti cittadini e non solo di tutto l'Interland catalizzarono i collegamenti ferroviari e quindi ad esempio la zona del macello comunale che prese proprio collocazione nella zona di rimpetto della stazione per fare in modo, qui si intravede nelle immagini storiche, che i vagoni ferroviari potessero arrivare ad accesso diretto a tutta questa zona di servizio. Quindi il panorama di Chiasso ripreso in questo caso dal PENS nei primi novecento incomincia a prendere luogo spazio e con formazione quella che è tutto l'importante fascio ferroviario e la presenza della stazione ferroviaria nella città di confine che sarà determinante anche come luogo d'incontro. Ci si dava appuntamento al buffet della stazione. Nelle lettere e negli scritti comunque le associazioni andavano a fare le loro pranzi e cene, c'era il buffet di prima classe e il buffet di seconda classe come avveniva non nelle grandi stazioni metropolitane. E particolare, ecco, sempre grazie alle cartoline che abbiamo l'immagine di quella che era la conformazione nella stazione, siamo quella, la prima stazione in muratura di Chiasso che era molto semplice sull'esterno, proprio mattone faccia vista con delle paraste che scandivano lo spazio. All'interno invece si dava adito a maggior decoro. La parte dell'accoglienza non era solo quella del buffet ma vi era anche il servizio a un volante di ristoro sui binari che era la possibilità quindi di questa grande quantità di persone che scendevano tutti a Chiasso e che quindi si dovevano dissetare, abbeverare, che magari non direttamente andavano nel buffet della stazione e che quindi, ecco, oggi sostituita dalle macchinette automatiche, all'epoca c'erano le belle signore che offrivano mescita delle bevande. La pensilina della stazione di Chiasso viene rinnovata con colonine in ghisa e vi è la classica suddivisione del controllo delle guardie e quindi questo cancello faceva in modo che si suddividessero coloro che dovevano passare ancora la dogana dal prendere invece il treno. Quindi nel momento in cui comunque la dogana di Chiasso era una dogana chiusa da cancelli, già la stazione di Chiasso aveva invece questi cancelli che si aprivano e che con un orario sempre più ampliato offrivano la possibilità di grandi traffici e commerci. La stazione di Chiasso compare così citata su tutti i documenti come una stazione internazionale, come una stazione che supera di 1 a 5 la previsione e che non c'è tempo per riuscire a ampliare i magazzini, creare nuovi spazi di deposito, il magazzino del ghiaccio, la fabbrica del ghiaccio, le sosta delle derrate alimentari, la creazione quindi di depositi idonei, le norme di sicurezza, la parte del cosiddette controllo pandemico, si capisce benissimo nei momenti di controllo di entrata di immigrazione e quindi gli spazi, sono tantissime le lettere che io adesso semplifico per dovuto il tempo, ma c'è un'incessante richiesta alle ferrovie federali svizzere nella sede di Lucerna da parte di tutti gli uffici preposti di Chiasso, ma anche di politici, sindaci di Chiasso, la necessità di continuamente adeguare la situazione infelice perché sempre più necessitava di spazi e di luoghi afferenti alla stazione. Il viale della stazione, ecco, lo vedete ed ha questa, secondo me chiaramente si vede il secondo piano della stazione, se da un lato c'è scritto viale della stazione, in realtà la stazione è questa piccola costruzione oblunga di più di 150 metri in muratura che funge nelle sue funzioni ma che non è assolutamente rappresentativa e anomala rispetto a tutta la linea della Gotharban, come abbiamo visto se voi andate che solo alla stazione di Balerna vi rendete conto della tipologia della Gotharban che aveva il bugnato faccia vista, la struttura C e via dicendo, anche nelle stazioni piccole. Ma la stazione di Chiasso però riesce a tenere testa anche a tutte le innovazioni, è importantissimo sugli anni 20, 22 in particolar modo, l'arrivo dell'elettrificazione, quindi un altro elemento epocale nelle ferrovie e Chiasso si attiva la trazione elettrica e nel tratto appunto Belenzione, Chiasso e poi sarà fino al Gottardo e quindi queste nuove si riescono a attuare grazie al grande sviluppo dei fasci ferroviari e alla attualizzazione con l'aumento anche dei traffici e commerci, ma vedete che la facciata che dà, questa è quella interna, è ancora in mattoncino rosso e con la scansione di queste paraste. Gli anni 20 con l'elettrificazione faranno fare dei salti da gigante a tutta la struttura diciamo ferroviaria, per cui viene inaugurato, sono negli anni 20 il punto Franco, tutta la parte annessa, il piano coreografico di Chiasso sta assumendo, avete visto prima i dati che vi ho indicato, dell'aumento demografico notevole e quindi diciamo che se consideriamo un aspetto legato agli edifici di Chiasso e l'asse di Corso San Gottardo e tutto l'aspetto urbanizzato rispetto alla grande quantità di quanto occupa il fascio ferroviario vi rendete conto della visione di quel famoso rapporto sottostimato di 1 a 5 che occupa il territorio di Chiasso. La ferrovia deve continuamente fare piani di esproprio e continuare a pensare a un ingrandimento di tutto il giro del vano anche ferroviario. Gli anni 20 quindi si caratterizzano da una forte polemica soprattutto che avviene terminata la prima guerra mondiale in cui si chiede più volte che il circondario di Lucerna prenda la decisione di bandire un concorso. Finalmente nel 1926 viene bandito un concorso a livello per il cosiddetto nuovo ricostruendo fabbricato viaggiatori della stazione di Chiasso e vi partecipano ben 34 progettisti ma pochi sono i piani di impostazione e la richiesta del bando in quanto si capisce che si desidera allungare la facciata dandogli una rappresentatività ma sostanzialmente le attività di traffici commerci erano così già radicate sulla struttura presistente che non si riusciva a realizzare un nuovo intero fabbricato ma che questo doveva sancire un imbellettamento di una situazione topografica già occupata. E qui proprio anche con i grandi progetti vedete si cerca la monumentalità si cerca la rappresentatività ma si guarda molto a modello oltralpe e qui si scatena la polemica. La federazione architetti diplomati cappeggiata da Augusto Guidini fa un esposto proprio per dichiarare la mancata italianità e la mancato gusto dove ci possa essere un'espressione ticinese sulla stazione di Chiasso. Si sviluppa una querelle che occupa i giornali per lungo tempo e questo ovviamente ritarda la realizzazione da parte della sede centrale delle ferrovie nella scelta del progetto. Verrà giocoforza fatto un po' un'unione di intenti tra il primo e il secondo classificato e viene attribuito il progetto vincitore però vedete che siamo ormai già nel 31, quindi si sono persi anni anche importanti e Arnoldo Ziegler. E Ziegler che cosa fa? Dà questa visione monumentale alla facciata e sono 146 metri di lunghezza per una larghezza in certi punti di 30 metri e riveste tutta la facciata con granito dosogna. C'è questa scansione, lo vedevate prima, di paraste che dà l'ordine centrale della facciata, quelle laterali, i finestroni e quindi con però una disassialità rispetto alla centralità rispetto a tutta la lunghezza della facciata per ritrovarsi collocata sul punto che possa servire effettivamente la città. È la facciata che noi conosciamo ancora oggi, è la facciata che è stata restaurata e con annessa pensilina, viene inaugurata in Pompamagna con una grande manifestazione pubblica, ma la FAD, la Federazione di Architetti Diplomati, continuerà a dichiarare quella che era stata un'occasione perduta, che Chiasso poteva, se coraggiosamente la sede centrale delle ferrovie avesse previsto la demolizione e la situazione di una grande costruzione, perché, lo documentano anche in queste immagini, in realtà è stata costruita la facciata mantenendo l'edificio preesistente funzionale perché occorreva in quel momento e poi è stata conclusa con la grandissima hall, la grande hall che ospita poi anche le opere d'arte, come previsto dalla legge svizzera per le importanti opere pubbliche. La stazione viene comunque inaugurata, l'illustrazione ticinese ne dà un plauso e questo ampio vano, vedete che può prendere la luce anche da questo lucernario sopprastante, è dovuto al fatto proprio che è stata rialzata la parte centrale rispetto a una situazione invece topografica esistente. Accanto alla stazione ferroviaria si creano importanti anche opere di accoglienza come l'opera Bonomelli che permetteva quindi un piatto caldo, un posto da dormire agli emigranti che già a partire dagli anni trenta, queste sono fotografie dell'epoca in cui la presenza dei, ecco dormire accanto all'Italia alla Svizzera non deve essere stato comodissimo ma l'idea di questa necessità fa capire la forte presenza anche di persone e la necessità del controllo e della stasi della collocazione. Quindi Chiasso nella sua immagine urbana è fortemente connotata dalla presenza della stazione ferroviaria, dai fasci ferroviari e da questo elemento oblungo di servizi legati anche ai depositi delle locomotive e legati anche a funzionalità che avvengono come anche la fabbrica del ghiaccio poco distante. Quindi mi piaceva concludere ricordando che anche l'importanza della ferrovia è sempre stata determinante per Chiasso, una delle caratteristiche rispetto al progetto in muratura e alla realizzazione degli anni trenta è quella che sposta leggermente più a sud la stazione ferroviaria e questo è riconosciuto come un elemento anche di difficoltà nella gestione del traffico e nella situazione di fruizione rispetto all'ombelico del nodo viabile delle città. Ma l'ampliamento del fascio ferroviario che richiedeva il giro e anche il volteraggio e tutta una sorta di problemi che all'epoca vi erano e che oggigiorno sono superabili invece diversamente fa sì che Chiasso abbia un grandissimo potenziale di sviluppo e che la sua stazione e il suo grande superficie di fascio ferroviario possa essere il futuro anche di sviluppo se ben impostato. E quindi come Max Huber diceva che amava Chiasso perché c'era un mare di binari ecco questo mare di binari possa essere per il suo futuro anche un importante cuore pulsante come è stato in tante altre capitali europee e che quindi questa storia tormentata della ferrovia che ha fatto sì che poi la stazione di Chiasso alle ferrovie federali svizzera è costata 5 volte di più del previsto ma perché è stata sottostimata fin dalle sue inizio origini e quindi che come per allora la stazione ferroviaria era il vanto di una città dove le cartoline ricordavano nei saluti da Chiasso soprattutto nell'importanza della propria stazione guardando al futuro che possa essere un momento di ridisegno urbano e di grandi progetti perché è un grande spazio all'interno di una città di confine e che quindi con le sue relazioni possa essere assolutamente un punto nodale anche di sviluppo futuro e non un obice ma un momento economicamente pulsante ecco con questo auspicio quindi nel 150 anni della commemorazione che non siano solo un guardare indietro ma che siano proprio anche un'occasione per ripensare quella che è un fattore importantissimo di progresso e di civiltà cioè la stazione ferroviaria ringrazio Nicoletta Ossanna Cavadini per la sua chiara esposizione il rapporto 1-5 è un po' una costante e quindi la spesa qui 1-5 cioè 5-1 beh trova una sua giustificazione insomma nel calcolo mal fatto in partenza quindi non è un superamento di budget ma è una mancanza di previsione sul traffico consentitemi di ringraziare il comune di Chiasso perché un comune con e purtroppo sono solo 7800 abitanti siamo siamo lì insomma speriamo che si aumenti riesce a mettere sul mercato delle produzioni di natura culturale di vasta gamma già vi ho detto all'inizio non vi tedio più in questo momento ma è un impegno notevole che si ripercuote anche in costi in costi ben spesi io dico sempre che le spese destinate alla cultura hanno questo vantaggio che contribuiscono a diminuire le spese di natura medico-ospedaliera perché quando si è interessati a qualcosa ecco quell'interesse ci fa dimenticare quel mal di testa quel piede che non è più come una volta eccetera quindi nelle considerazioni di bilancio ecco le spese della cultura sono sempre molto basse se calcolate correttamente ecco non ho passato l'esame di contabile di contabile quindi è una considerazione di natura sociologica insomma anche questa passiamo ora alla seconda conferenza la professoressa Simona Martinoli Stabler ci parlerà di arte polemiche alla stazione di Chiasso le polemiche vengono fuori in modo particolare per il gruppo statuario Italia e Svizzera nessun problema per l'emigrante di Pietro Chiesa che calzava esattamente per un atrio di una stazione insomma si entrava e si vedeva l'emigrante che salutava la famiglia e lasciava il suo paese Sagno il paese? Sì è Sagno ecco sì pensando a Chiesa sì non si poteva cascare no dopo ne parliamo sì 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 no no non anticipo sono tendo ad essere invadente bloccatemi se siete attenti è interessante questo atrio però perché per la prima volta una donna Margherita Oswald Toppi ha vinto un concorso artistico in Svizzera quindi è una pietra miliare ecco da questo profilo poi vi dirà vite miracoli di Margherita Oswald Toppi la professoressa Simona Martinoli Stabler è interessante questa partecipazione dell'ente pubblico quando costruisce c'era ne so temo che non ci sia più quella norma però o c'è ancora non lo so c'è ancora c'è ancora e viene applicata rigorosamente no ah no ecco quindi insomma andrebbe ripristinato ma probabilmente per non aumentare troppo le imposte o i moltiplicatori comunali se sono opere comunali una parte della una percentuale della costruzione andava in opere in opere d'arte ecco quindi c'era anche un premio un incoraggiamento allo sviluppo allo sviluppo dell'arte due parole sulla professoressa Simona Martinoli anch'essa storica dell'arte è direttrice della fondazione Margherita Arp Hagenbach a Locarno dal 2016 è docente all'accademia d'architettura quindi all'università della Svizzera italiana a Mendrisio dal 2013 è stata curatrice anche al Museo Villa dei Cedri di Bellinzona per una decina d'anni ha diretto l'ufficio della Svizzera italiana della società di storia dell'arte in Svizzera è autrice di numerose pubblicazioni sull'arte e sull'architettura novecento e ottocento e novecento ottocento anche ottocento e novecento e ha curato diverse mostre è stata consigliera della fondazione di Proelvezia di Proelvezia è membra della giuria per il padiglione svizzero alla Biennale d'arte e alla Biennale d'architettura di Venezia dal 2011 al 2014 questo vuol dire che per l'edizione del 2012 e del 2014 si è occupata anche degli autori svizzeri che hanno esposto o che sono stati chiamati a Venezia è così? sì, nella giuria ecco, sì, perfetto ci sarà una domanda su questo argomento, penso questo mi ha colpito particolarmente fa parte del consiglio della fondazione Gottfried Keller e del consiglio della fondazione Archivi Architetti Ticinesi interessante anche non si occupa solo di storia dell'arte ma vedo che è nel comitato scientifico della rivista Archivio Storico Ticinese ecco, è una bella rivista che vi consiglio esce due volte all'anno faccio una promo e devo dire che ho scoperto questo argomento e ho guardato dopo aver letto questo articolo siamo nel 2010 passando da questo gruppo scultoreo ecco, mi sono fermato un po' per i motivi che adesso vi dirà prego professoressa Martinori grazie, grazie per l'invito e grazie mille per questa serata saluto il pubblico arrivo subito al dunque dunque in diversi paesi europei proprio dagli anni 30 del 900 si assiste a un intensificarsi delle misure volte a promuovere l'arte nell'architettura questo anche in Svizzera dove proprio nel 1932 il Consiglio federale attinge dalla cassa della disoccupazione i mezzi finanziari volte ad aiutare gli artisti svizzeri vittime della crisi dunque in periodo di crisi si stanziano fondi importanti in favore degli artisti questo è interessante e una delle misure adottate è proprio quella dell'organizzazione di decorazioni artistiche così si chiamavano allora per gli edifici pubblici il primo importante concorso in Ticino è proprio quello indetto nel 1932 dalla Confederazione Svizzera per la stazione ferroviaria di Chiasso questo appunto in concomitanza con i lavori di ristrutturazione di ampliamento di cui ha parlato prima Nicoletto Sanna Cavadini e già dalla fine del 1931 quando i lavori stavano volgendo a termine si inizia a discutere di questa decorazione artistica dei nuovi spazi della stazione la Commissione federale delle belle arti decide dunque di bandire un concorso proprio per la decorazione del nuovo fabbricato e lo apre il 15 gennaio nel 1932 agli artisti ticinesi e agli artisti confederati residenti da almeno 5 anni nel nostro cantone il programma del concorso prevedeva un intervento pittorico sulla parete vedete che appunto qui l'atrio ancora con la parete spoglia dunque la parete visibile dall'ingresso principale della stazione e poi di una scultura da collocare al centro dell'atrio e come di consuetudine nei concorsi soprattutto federali ai concorrenti è lasciata la piena libertà nella scelta del soggetto questo a condizione che si adatti proprio alla destinazione dell'edificio questo è l'unico diciamo è l'unica consegna che si fa ai concorrenti sono stati lasciati due mesi per elaborare un progetto e si chiedeva un progetto in scala 1 a 10 e un dettaglio in grandezza naturale per quanto riguardava la pittura murale e un progetto in scala 1 a 4 per la scultura che poteva si dice nel programma poteva eventualmente consistere in una figura all'interno di una fontana la giuria la giuria era composta da tre artisti delegati dalla Commissione Federale delle Belle Arti dunque Sigismund Trighini Edward Zimmerman e il più noto Augusto Giacometti come pure dall'architetto delle Ferrovie Federali Svizzeri Alfred Ramseyer Pietro Chiesa si aggiudica il primo premio per la pittura murale con l'emigrante adesso ne parliamo mentre il premio per la scultura è assegnato a Margherita Oswald Toppi dunque come è già stato detto la prima donna a vincere un concorso federale e che poi eseguirà appunto il gruppo scultorio Italia-Svizzera Pietro Chiesa dunque vediamo dapprima la sua opera Pietro Chiesa un'artista di successo un'importante figura istituzionale non solo in Ticino ma anche in Svizzera e in Italia aveva esordito come pittore simbolista nell'ambito della pittura lombarda degli anni 90 e dell'800 poi si era dedicato alla pittura di argomento sociale e in seguito alla pittura murale Pietro Chiesa realizza appunto questo affresco intitolato l'emigrante che viene inaugurato nel gennaio del 1934 vediamo che ritrae un giovane uomo che abbandona la famiglia e il villaggio natio per cercare lavoro altrove dunque la tipica vicenda di una famiglia di contadini ticinesi in un villaggio in realtà non identificabile con precisione perché vuole essere un villaggio qualsiasi del canton ticino dunque c'è una certa rinuncia proprio a una caratterizzazione precisa anche degli individui e alla specificità dei luoghi proprio per farli assurgere a rappresentanti di un'intera realtà rurale idealizzata su scala monumentale dunque qui l'artista racconta una storia che vuole essere comprensibile per chiunque avvalendosi di una composizione drammatica e solenne di un linguaggio pittorico molto semplice molto immediato come lui stesso spiega in una lettera al critico d'arte Louis Chazet il 14 gennaio del 34 dice proprio in sintesi quest'opera riassume la mia esperienza di pittore rivolta a favore di un linguaggio che sia chiaro e intellegibile anche al popolo dunque un'opera comprensibile per chiunque anche per persone non abituate a frequentare per esempio i musei insomma o a nutrirsi di arte la scelta iconografica di Pietro Chiesa è ritenuta particolarmente idonea alla destinazione dell'edificio e pertinente alla realtà ticinese come rilevava Daniel Bo Bovi che era il presidente di questa commissione federale delle belle arti e questo lo fa in una lettera indirizzata al consiglio federale cito brevemente la scelta del soggetto esprime uno degli aspetti più ricorrenti e più drammatici della vita in Ticino la partenza dell'emigrante e al tempo stesso in questo caso particolare e regionale simboleggia tutte le separazioni di cui le stazioni sono testimone dunque un soggetto veramente estremamente calzante proprio per il tipo di edificio Pietro Chiesa aveva eseguito dei belli studi preparatori per l'emigrante sono degli studi preparatori conservati al museo d'arte di Mendrisio ne vediamo tre appunto in questa immagine e oltre che essere studi preparatori erano in fondo quasi delle opere compiute tant'è vero che sono stati esposti in diverse occasioni in mostre sia in Svizzera che all'estero e questi studi documentano la ricerca di una composizione di una soluzione compositiva efficace e importante in un caso come questo pienamente godibile da una certa distanza e dal basso perché chiaramente ecco un tipo di opera come la fresca dell'emigrante doveva essere veramente percepibile anche da una certa distanza dal basso dunque c'era tutto uno studio compositivo che doveva portare a questa soluzione l'opera di chiesa è stata ben accolta dal pubblico aveva incontrato anche i favori della critica di oltralpe praticamente all'unisono la critica riteneva la scelta iconografica di chiesa particolarmente idonea e pertinente c'è stato soltanto una voce almeno mia conoscenza una voce fuori dal coro ed era il critico d'arte abbastanza polemico in generale Ugo Donati infatti Ugo Donati qualche anno dopo nel 37 scrive a Pietro Chiesa una lettera in cui definisce la sua opera proprio senza mezzi termini cito una specie di funerale che è tutta un'offesa al nostro emigrante senza contare l'offesa all'arte cioè proprio senza mezzi termini però bisogna dire che è stata veramente credo l'unica voce critica e infatti il successo di chiesa come frescante insomma si consolida ho parlato brevemente di chiesa perché appunto diciamo l'affondo desidero farlo sulla seconda opera che è appunto quella di Margherita Osvald Toppi che ho avuto l'occasione di approfondire grazie alla scoperta di un dossier inedito questo però già 15 anni fa nell'archivio delle ferrovie federali svizzere FFS Historic a Berna questo ecco c'è stato proprio sono andata a consultare tutti questi documenti ed è stata veramente una bella scoperta dunque passiamo a Margherita Osvald Toppi riassumo veramente in modo molto breve la sua biografia perché altrimenti sforiamo è un'artista nata a Roma nel 1897 discendente da una famiglia di artisti di Anticoli Corrado nella campagna romana sposa Paul Osvald uno scultore e pittore svizzero e nel 1912 i due si trasferiscono a Zurigo a Zurigo Margherita si forma da pittrice autodidatta e da scultrice nell'atelier del marito tra l'altro nel periodo di permanenza a Zurigo riceve anche incarichi importanti tra cui i bassorilievi nell'atrio dell'università e la troviamo anche se consultiamo i cataloghi del Kunsthaus la troviamo regolarmente presente a diverse mostre poi nel 19 la coppia si stabilisce in Ticino prende casa ad Ascona e nel 1927 si separano si divorziano Margherita soggiorna anche a più riprese a Parigi torna in parte ad Anticoli Corrado e poi è attiva ad Ascona dove appunto vive una vita d'artista appunto anche con frequenti esposizioni nella scultura si dedica principalmente alla figura umana in particolare alla figura femminile e va detto che fino alla creazione del monumento di Chiasso aveva soltanto realizzato sculture di piccolo formato in materiali diversi bronzo legno terracotta però non aveva mai affrontato un tema di scultura monumentale comunque appunto vince questo concorso presenta un per il concorso presenta un bozzetto che raffigura due figure femminili che si abbracciano e si esprime riguardo a questo bozzetto che ha presentato al concorso con queste parole dice ho modellato il bozzetto del monumento della stazione di Chiasso cercando con la composizione di esprimere la cordialità tra due nazioni confinanti venti giorni dopo il concorso era vinto e mi fu affidato il lavoro nell'eseguire il monumento voglio trattare la modellazione delle due figure con la massima semplicità per esaltare l'orgoglio delle due terre qui vediamo una foto pubblicata in illustrazione ticinese nel 1933 nella Didi Ascalia si legge che si tratta del bozzetto nello studio dell'artista allora l'aspetto della scultura corrisponde a quello dell'opera compiuta per cui penso che in realtà si tratti non del bozzetto presentato al concorso ma già del modello in scala uno a uno per quanto riguarda invece il bozzetto presentato al concorso cioè quello che l'ha consentito di vincere mi sembra appunto plausibile identificarlo in questo bozzetto in terracotta che vedete nell'immagine anche perché guardando anche le proporzioni si tratta proprio di un'opera in scala circa di uno a quattro cioè quello che veniva richiesto dal bando del concorso questo se paragoniamo ecco questo bozzetto in terracotta all'opera compiuta che qui vediamo però appunto scontornata notiamo un aspetto particolare dunque il bozzetto se lo osserviamo ha una così una dimensione intima l'aspetto delle due figure è decisamente più femminile se lo osserviamo per esempio il modellato delle membra delle braccia in particolare il capo inclinato l'espressione dei volti più dolce nel bozzetto mentre più impassibile nell'opera compiuta ci sono queste chiare differenze l'aspetto interessante è la scelta del materiale poi dell'opera compiuta dunque Margherita Osvaldopi ha scelto la pietra artificiale che è un conglomerato di cemento che nelle tonalità riprende le insomma queste calde tonalità della terracotta dunque c'è questo passaggio dalla terracotta alla pietra artificiale ma diciamo che l'impressione così generale è mantenuta c'è questo aspetto di insomma di calore se cerchiamo ora di identificare queste due figure chi è si intitola Italia e Svizzera chi è l'Italia che la Svizzera diciamo la scelta di rappresentare prima di tutto la scelta di rappresentare due figure femminile abbracciate come allegoria dell'amicizia tra due nazioni o anche due entità politiche sicuramente non era nuova cito come esempio tra i tanti che si possono citare il gruppo scultorio l'Italia riconoscente alla Francia del nostro scultore locale qui vicino Vincenzo Vela un'opera del 1861-62 dove la giovane Italia con il capo cinto della corona turrita è ritratta in procinto di porgere un bacio alla più matura Francia questo per l'aiuto concesso alla creazione dello Stato italiano e di figure allegoriche che rappresentano due nazioni di questo tipo ce ne sono diversi esempi ma tornando a Chiasso qui abbiamo visto degli attributi che consentono di riconoscere le due figure ma tornando a Chiasso è difficile sono delle figure se le guardiamo torniamo a questa immagine non ci sono degli attributi particolari che possano consentire di identificare l'Italia e la Svizzera perché l'unico in fondo l'unico attributo che troviamo è questo questo elemento vegetale che si trova nella posizione posteriore della della scultura ed è leggibile come un probabilmente come un trancio d'ulivo stilizzato questo proprio come simbolo di pace tra le due nazioni dunque riguardiamo l'immagine completa e una lettura se vogliamo logica ci indurrebbe a riconoscere l'Italia a sud e la Svizzera a nord questo sarebbe insomma nella logica soltanto che l'opera pubblicata in illustrazione ticinese dunque quando c'era presente Margherita Osvaldopi tant'è vero che sono state scattate delle foto nel suo atelier nella didescalia cita proprio l'opposto e cioè la Svizzera a sud e l'Italia a nord questo perché perché l'intento era proprio quello di sottolineare il messaggio di scambio e di integrazione tra le due nazioni dunque questa opera plastica assume una funzione narrativa e sigla proprio la realizzazione di questa stazione ferroviaria come ponte tra due nazioni vicine osserviamole bene dunque l'Italia è quella che voi vedete a sinistra è quasi completamente svestita come nella statuaria classica cerca anche questo riferimento accentuato dal profilo anticheggiante di questa figura femminile e anche dai capelli che sono raccolti in questo modo caratteristico sulla nuca quella che invece l'elvezia la svizzera ha un non è proprio completamente nuda ma ha un manto che viene raccolto sotto il seno evocando gli abiti medievali e particolare interessante la capigliatura che si intuisce è coperta da un velo e qui ecco penso che ci sia una contaminazione iconografica con il simbolo della svizzera che è Guglielmo Tell se noi notiamo veramente molte molte opere celebri di Guglielmo Tell che raffigurano Guglielmo Tell come vedete qui nell'immagine l'opera di Richard Kisling Wilhelm Tell mit seinem Zohn al Museo d'Arte dei Grigioni a Coira oppure il notissimo Wilhelm Tell di Ferdinand Hodler che si trova al Museum di Soletta ecco che c'è sempre questo copricapo dunque l'Elvezia con questo richiamo diciamo all'eroe nazionale per eccellenza se torniamo alla nostra opera qui invece l'avete vista prima nella stazione prima dei restauri però quelle erano le foto professionali per quello che ve le ho portate mentre questa è una foto fatta da me non tanto bella ma almeno è nell'altro come si presenta attualmente un'altra cosa che notiamo è l'assenza di riferimenti al contesto geografico e politico allora siamo nel 1933 sappiamo in Italia c'era il regime fascista al potere ormai da un decennio abbondante dunque qui c'è proprio un intento una rinuncia a dei richiami contemporanei e questo ha consentito all'artista di non doversi confrontare con il periodo storico in cui viveva e di esprimere un'amicizia senza tempo tra le due nazioni per quanto riguarda lo stile è uno stile chiaramente estraneo a tutti i movimenti di avanguardia insomma che siamo nel 1933 ricordo è piuttosto riconducibile a quel clima del cosiddetto ritorno all'ordine di ripresa della classicità che ebbe come protagonisti scultori come Arturo Martini in Italia come Aristide Maiol in Francia o come Hermann Haller in Svizzera in questo monumento l'espressione del messaggio simbolico è affidato principalmente alla fisicità prorompente di queste due figure sono due matrone che trasmettono una sensazione di benessere una sensazione di stabilità e anche la scelta della nudità ha un suo motivo qui abbiamo la nudità come espressione di verità infatti proprio il fatto stesso di rappresentare una nazione attraverso una figura femminile nuda o seminuda mettendone in risalto il seno come emblema di maternità sottolinea proprio questo aspetto della patria come madre della madre patria ecco questo è un messaggio direi chiaro dunque riassumendo si può dire che il messaggio veicolato da quest'opera è semplice è adeguato alla destinazione dell'edificio e è riassumibile come la fiduciosa unione di due figure femminili materne che personificano l'Italia e la Svizzera espressa attraverso il gesto del braccio del luna posato sulla spalla dell'altra dunque questa scultura il 6 giugno del 1933 viene collocata al centro dell'atrio della stazione un evento come questo evidentemente viene riportato dalla stampa di cinese ed è interessante notare appunto come si esprime la stampa di aree diverse insomma all'epoca c'erano ancora diversi quotidiani allora in quelli di area liberale e socialista che erano addirittura tre all'epoca erano il dovere la gazzetta ticinese e la libera stampa si apprezza la grande abilità artistica di Margherita Osvaldoppi la sua tecnica e cito si dice l'opera rappresenta un grande ornamento per l'atrio e contemporaneamente una grande attrazione per chiasso diverso è il tono delle cronache nel giornale del popolo il quotidiano della curia vescovile che commentando il momento in cui la statua fu scoperta proprio quel momento preciso scrive allora cito fu uno sghignazzamento e un crollar di capo generale la statua è molto male ambientata volta alle spalle a chi entra nella stazione è ingombrante perché la sala è relativamente piccola è tozza di nessun effetto artistico e quello che è peggio di una nudità ributtante il giorno dopo il giornale del popolo riprende l'argomento e insomma raddoppia la dose cito a noi che sia stato aperto un concorso o no poco importa non avremmo che congratularci con il giurì per la sua felice scelta sta di fatto che quel gruppo è scandaloso che la protesta è generale intanto ha fatto bene il comunicato a dirci che quelle due figure rappresentano l'Italia e la Svizzera perché nessuno capiva nulla da qui nasce una polemica e si susseguono presi di posizione da parte del mondo cattolico ticinese l'11 giugno il vescovo Aurelio Bacciarini interviene direttamente presso il consigliere federale Marcel Pilet Gola che era il capo capodipartimento delle poste e delle ferrovie e lo invita niente meno che a far rimuovere al più presto cito il gruppo statuario che urta profondamente contro il senso morale del nostro popolo contro il rispetto che si deve alla giovinezza contro il criterio stesso della serietà due giorni dopo l'arciprete di Chiasso donna cittadine di Chiasso dunque due petizioni distinte uomini e donne ma entrambe avevano un unico scopo ed era quello di far rimuovere al più presto la statua appena posata praticamente e l'arciprete attira l'attenzione sull'opera cito dove la Svizzera e l'Italia sono rappresentate da due donne quasi interamente nude ritratte in una tale esibizione di nudità da suscitare il disgusto e la deplorazione di tutta la popolazione allora ripugnanza e disgusto sono i termini che ricorrono anche nel testo che accompagna appunto la raccolta di firme dei cittadini di Chiasso i quali rilevano che se una tale cito esibizione di nudismo può trovare posto in una galleria d'arte o in un altro luogo appartato è assolutamente sconveniente in un atrio di passaggio obbligato per uomini donne e fanciulli nel testo sottoscritto dalle cittadine lo svegno è ancora più eloquente infatti le donne chiascesi denunciano il cito il nudismo esposto con sfrontata offesa al pudore della donna alla vere condia delle nostre ragazze al rispetto che si deve alla innocenza dei giovanetti dunque tutto questo stride con la sensibilità artistica di Margherita Oswald Toppi insomma una delle pochissime scultrici attive in Ticino ma non solo all'epoca dunque la prima donna che ha vinto un concorso federale appunto tra l'altro c'erano già poche pittrici ma scultrici erano veramente pochissime e se appunto ricordiamo quanto ho letto all'inizio questo suo intento di creare un'opera semplice molto comprensibile per chiunque ecco c'è veramente una insomma uno scarto ma a questo punto ormai la valanga di reazioni era inarrestabile e il 16 giugno sono proprio tutte cose appunto nello spazio di pochi giorni l'Unione Femminile Cattolica Ticinese invita il consigliere federale a far rimuovere senza indugi il monumento che cito costituisce una pubblica offesa al pudore e fa arrossire la nostra fanciullezza educata a ben altri sentimenti morali oltre ad essere una grave provocazione e un grave oltraggio della donna nei suoi più delicati sentimenti degni del più alto rispetto allora in questa lettera si riferisce che alcune madri di Chiasso avrebbero avvertito la direzione degli istituti scolastici affinché i loro figli potessero fermarsi a Mendrisio e raggiungere il domicilio con il tram questo per non passare dalla stazione e non venire deturpati i poveri bimbi dalla vista del monumento scandaloso a questo punto chiaramente il consigliere federale Pilegola deve reagire perché è stato sollecitato insomma e chiede l'UMI anzitutto alla direzione generale delle ferrovie la direzione generale delle ferrovie non ritiene opportuno intervenire pubblicamente al dibattito perché spera che la popolazione si abitui al monumento che dopo insomma queste prime reazioni le acque si possano calmare inoltre spiega che c'è stata una giuria federale con delle persone competenti ed esperti che ha scelto quest'opera all'unanimità ritenendola ben riuscita di grande effetto e ben inserita nello spazio ma niente da fare ormai qui c'era comunque una levata di scudi e la municipalità di Chiasso a quel punto invia questa petizione che vi ho citato che era conclusa e che nel frattempo era stata sottoscritta da 340 cittadine e cittadini la invia accompagnata dalla lettera dell'arciprete sempre a Pilegola e a questo punto il consigliere federale trasmette tutto l'incarto al suo collega Albert Mayer che era a capo del dipartimento dell'interno e dunque il dipartimento dell'interno è responsabile per la commissione federale delle belle arti a questo punto viene interpellato il segretario della commissione federale che ritiene assolutamente infondate queste accuse e ribadisce la qualità artistica di quest'opera anche l'architetto Ramseyer Alfred Ramseyer e anche il pittore Pietro Chiesa oltre al comitato della società dei pittori scultori e architetti svizzeri sottolinea questo aspetto cioè cerca di portare il dibattito sulla qualità sui contenuti sulla qualità artistica insomma dell'opera poi parla anche della collocazione che sebbene appunto la collocazione è un po' anche questo un punto controverso il programma l'avevo detto richiedeva di collocare l'opera al centro dell'atrio c'è chi ritiene invece più adeguata una sestimazione contro la parete per evitare ai passeggeri questo spettacolo poco edificante di due schiene che sebbene modellate con cura non sono così interessanti questo lo scrive il critico d'arte Aldo Patocchi comunque qui la direzione del circondario delle ferrovie tiene una posizione molto ferma e dice l'opera è stata realizzata in questo modo come scultura tutto tondo per questo spazio al centro dell'atrio e deve essere rimanere lì per lo spazio per il quale è stata concepita questa è una caratteristica in fondo di tutte queste opere di arte nell'architettura kunstambau che sono create per un sito specifico dunque perdono di significato se collocate altrove inoltre bisogna anche dire che l'opera un'opera come questa collocata al centro di un'atrio o al centro di una piazza insomma si inserisce in una tradizione molto consolidata dunque per finire dopo tutte queste polemiche per prendere una decisione in merito la commissione federale delle belle arti decide di attendere il sopraluogo della sua delegazione perché tutte le opere realizzate in seguito dei concorsi federali ma non solo anche cantonali comunali hanno questo cosiddetto collaudo bisogna collaudarle dunque una delegazione ufficiale esamina l'opera in situ e decide se l'opera realizzata corrisponde a quanto è stato poi presentato al concorso e a quanto era stato richiesto dal concorso dunque per la commissione federale sono i membri della giuria Righini Zimmerman e Ramseyer che si recano a chiasso esamina l'opera e la collaudano insomma questo è il termine tecnico dunque dopo il collaudo la commissione ritiene definitivamente infondate tutte le critiche e le respinge inoltre rileva che l'intervento artistico di Margherita Osvaldoppi avrebbe avuto la sua diciamo la sua contestualizzazione definitiva soltanto dopo l'ultimazione dell'affresco di Pietro Chiesa che ho citato all'inizio ma che in realtà è stato appunto realizzato poco dopo dunque non si vedeva ancora l'insieme questo è ancora l'opera nell'altro ecco l'insieme è questo questa è ancora la foto appunto prima dei restauri ma appunto professionale fatta da Adriano Heitman ecco qui vediamo appunto le due opere e l'impressione globale e come queste due opere in fondo si alimentano a vicenda e sottolineano il significato che sta alla base perché come ha già detto l'avvocato Cometta il gruppo scultorio accoglie i viaggiatori che arrivano in stazione li accoglie in segno di benvenuto mentre il dipinto murale di chiesa che lo fronteggia saluta chi parte proprio come ha fatto l'emigrante dunque entrambi gli interventi evidenziano in modo molto chiaro la funzione dell'edificio per il quale sono stati concepiti dunque però questa polemica direi che illustra molto bene la problematica che accompagna la realizzazione di opere d'arte per gli spazi pubblici sia gli edifici pubblici sia gli spazi pubblici dunque opere d'arte come è stato detto in una lettera citata prima non presentate negli ambienti protetti della galleria d'arte del museo o anche del salotto privato ma esposte indistintamente agli occhi di tutti dunque è proprio una grande sfida questa di creare delle opere per lo spazio pubblico una grande sfida per gli artisti che devono confrontarsi appunto con un pubblico indifferenziato e io ritengo che sia una misura di promozione artistica ancora valida oggi anche se viene fatta poco per rispondere a quello che hai detto prima c'è una legge che promuove questo tipo di interventi artistici però spesso e volentieri si dimentica e in questo caso come spesso accade dopo le prime reazioni molto accese l'opera è entrata a far parte della quotidianità e proprio la sua collocazione al centro dell'atrio contribuisce sicuramente ancora oggi a tirare lo sguardo dei passanti e anche a incanalare il frutto dei viaggiatori ed è una fortuna che entrambe le opere siano anche rimaste al loro posto perché vi assicuro che anche opere di grande pregio realizzate in seguito a dei concorsi pubblici anche federali purtroppo sono state o manomesse o tolte anche a Mendrisio per esempio insomma sono state tolte dalla loro collocazione originaria grazie per l'attenzione nel 33 eravamo ancora lontani dal 68 ecco e si vede una dimostrazione plastica va detto che il presidente della giuria è persona particolarmente cognita di questa materia Sigismund Trighini era direttore del Kunsthaus di Zurigo e è sua la prima mostra su Picasso in quegli anni più o meno non lontanissimo da quegli anni quindi era persona che dal profilo culturale sapeva qualcosa forse poi c'è da dire che era un pittore e di recente sono passati da Christis e da Sotheby delle donne e ci sono nudi e ci sono persone vestite tipo Maya desnuda e Maya vestida cioè la concezione di Righini era proprio c'erano due donne nella sua nella sua visione quindi riesco a capire che per lui in fondo quest'opera era opera nel 1933 dai ducande in definitiva e quindi è passato tranquillamente cioè non si è posto perché Sigis Mondrighini faceva faceva altro insomma quando andava sul nudo femminile in questo senso però interessante queste argomentazioni ma sempre incuriosito parlando di Pietro Chiesa il fatto che dal 1900 dall'inizio del 1900 al 1930 31 si è andato 13 volte alla Biennale di Venezia ecco quando un autore va così tanto c'è un sospetto almeno al giurista viene un sospetto ecco qui qualcuno può averlo favorito il sospetto può diventare poi indizio di prova ad esempio quando un artista notevole come Giuseppe Foglia con esiti pittorici notevolissimi non è mai andato come pittore alla Biennale di Venezia ma ci è potuto andare solo come scultore con il muto ad esempio è andato due volte una volta con il muto un'opera un po' angosciante dimostra però la capacità di questo artista scultore ecco per cui mi sono messo in mente che c'era una specie di monopolio chiesa per andare come pittore alla Biennale di Venezia e il fatto che il fratello sia stato Francesco chiesa può aver giocato un certo ruolo in questo fatto e poi un altro indizio interessante che mi va in un certo senso è che andava nel padiglione italiano cioè l'artista svizzero è indicato sulle bippie insomma su quella che è uscita per il 125esimo della Biennale di Venezia nel padiglione Italia ecco non è mai riuscito ad andare con il padiglione svizzero però Pietro Chiesa ha avuto un grande merito ecco questo è un elemento un po' negativo su Pietro Chiesa ecco tanto per dire per dare tutti gli elementi per una valutazione Pietro Chiesa però ha un grandissimo merito nel 1922 22 o 32 posso posso dirvelo ho portato un vigino è una pubblicazione del Circolo Cultura Insieme dove di presenza una presenza continua 13 volte in 30 anni cioè in tutte le edizioni perché poi c'è stata la guerra e quindi lì non c'è stata la Biennale non c'è stata la Biennale di Venezia ecco qui è stato interessante che nel 1932 ecco nel 1932 si è dato da fare affinché anche la Svizzera avesse il proprio padiglione la Biennale di Venezia e fu costruito il primo padiglione poi si arriva al 1952 quando arriva il padiglione definitivo il secondo padiglione insomma quello che trovate se andate in questi giorni il 20 aprile ci sarà l'inaugurazione della Biennale di Venezia troverete il padiglione svizzero costruito nel 1952 su progetto di Bruno dell'architetto Bruno Giacometti che è il fratello del grande del grande del grande Alberto che ha vinto e l'altro progetto che non ha potuto essere realizzato era quello di un artista non da poco Max Bill ecco interessante e quindi questo padiglione svizzero il primo e il secondo come conseguenza lo dobbiamo all'insistenza di Pietro Chiesa ecco e magari anche alla spallata di Francesco Chiesa ecco da questo profilo e così abbiamo un padiglione e gli artisti nostri possono andare lì e per due anni questi artisti svizzeri sono stati scelti da una commissione in cui c'era anche la nostra conferenziera Simona Martinoli Stapler dico bene certo che si chiude e ci fermiamo vi ringrazio per la vostra attenzione e spero di rivedervi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti